5 ore e 15 di viticletta, 10% di pendenza, energia e l'umicino, ma siamo qui duri. Il Marconi, chissà dove sarà, la Sudis aspetterà la casa. Santa Maria è fatta, quest'anno erano particolarmente insidiose per l'asciutto, per la ghiaia, per la ghiaia. Adesso ci mancano circa 30 km, poco meno, per tornare a Gaioli in Chianti. Si aspetta di bello il muro al contrario del broglio. Comunque la gamba è buona, l'anno prossimo sicuramente facciamo il 200. Certo, Thomas, questo è già inscrito.